Buonasera a tutti e grazie per essere venuti così numerosi a questa che è la sesta e ultima conferenza del ciclo sul tempo. Ciclo di conferenze organizzate dal gruppo Astrofili di Piacenza e dalla fondazione di Piacenza e Vigevano. Colgo l'occasione per ringraziare la fondazione per averci messo a disposizione il locale, per aver curato insieme a noi l'organizzazione. Dunque, chi di voi è sopravvissuto alle precedenti cinque conferenze ricorderà che abbiamo parlato di tutta una serie di argomenti in qualche modo collegati al tempo. Si è parlato di meridiane, di orologi solari, della nascita del calendario, dei grandi cicli cosmici, di come i telescopi siano di fatto delle macchine del tempo, perché guardando lontano nell'universo riescono a guardare indietro nel tempo. La conferenza di questa sera è un po' diversa dalle altre. Nel senso che nella conferenza di stasera invece cercherò di parlare proprio del tempo, non di argomenti collegati al tempo. Parlare del tempo non è facile. La conferenza di stasera è divisa in due parti. La prima parte, diciamo così, nella prima parte io cercherò di decondizionarvi, cioè io cercherò di incrinare quello che è la vostra idea innata del tempo, del tempo, di un qualcosa che scorre uniforme, ineluttabile, che trascina tutto dal passato verso il futuro, come l'idea del grande fiume, entro cui siamo tutti immersi, verso un destino che non conosciamo. E più che un'idea del tempo, io la definirei una sensazione del tempo. Perché, come diceva Sant'Agostino, quando lo interrogavano sul tempo, se nessuno me lo chiede lo so, ma se qualcuno me lo chiede non so cosa dire. Quindi la prima parte serve per cercare di smuovervi un po' da quella che è una vostra idea radicata e innata. Nella seconda parte, invece, della conferenza, cercherò di inocularvi una nuova idea del tempo, un'idea che ci viene dalla fisica moderna, in particolare dalla cosmologia, che vede un universo statico, atemporale. Quindi, tra le due parti ci sarà un breve intermezzo, non musicale, in cui io cercherò di spiegarvi in cinque minuti quello che è uno dei principi, o il principio fondamentale della meccanica quantistica, il cosiddetto principio di sovrapposizione degli stati. Ora, cercare di spiegare la meccanica quantistica in cinque minuti è un utopio, ovviamente, però io cercherò, in modo molto semplice, di farvi capire questo punto chiave, perché è quello che ci consentirà di collegare la prima alla seconda parte. Quindi, direi che sembra quasi una seduta psicanalitica questa qua di questa sera. Io, essendo consapevole che farò venire mal di testa a qualcuno, io mi sono portato, ci siamo un paio di aspirina qua, e qui c'è l'acqua se qualcuno volesse approfittarne. Comunque, mi scuso già se qualcuno proprio dovesse essere. Quindi, ecco, quindi un'avvertenza, no? Questo personaggio qui è Richard Feynman, è uno dei più grandi fisici del secolo scorso. Premio Nobel per la Fisica nel 1965, l'inventore dell'elettrodinamica quantistica, dei Patti Integrals, tutta una serie di orpelli, e da molti, e anche da me personalmente, è ritenuto secondo solo ad Einstein. Era un personaggio centrico, brillante, eclettico, e tanto per dirvi, mentre Einstein suonava il violino, Feynman suonava il bongo, che è quel tamburo che si mette tra le cosce. È stato l'unico che, durante la prima esplosione nucleare nel deserto del Nuovo Messico, ha voluto guardare l'esplosione della bomba atomica senza occhiali, protetto solo da una lastra di vetro che lo riparavano dall'ultravioletto, perché lui la voleva vedere, l'esplosione atomica, quindi ha tenuto un paio di conferenze sul tempo, anche Feynman, e quando gli chiedevano di parlare del tempo, cos'è il tempo? Non chiedetemelo mai, è troppo faticoso il solo pensarci. Quindi, capite, è la difficoltà in cui mi trovo io a cercare di parlarvi del tempo. Allora entriamo nell'argomento della prima fase, cioè smantellamento della vostra vecchia idea innata del tempo. Ecco, questa prima immagine rappresenta bene quella che è la nostra idea naturale del tempo. Qui è il viso, il volto di una persona che da bambino cresce, diventa ragazzo, fino a diventare uomo adulto, di mezza età. Le nostre idee del tempo, cos'è? È una sequenza di momenti. Una sequenza di momenti che vanno dal passato, dagli ieri, verso il domani. C'è un momento, un momento particolare di tutti questi, che è quello che noi etichettiamo con oggi. Cioè, il momento presente. Dopo l'oggi, dove c'è il domani, io ho rappresentato l'istantanea del domani con un punto di domanda, perché la nostra comune, abituale, ordinaria, naif, idea del tempo, è che il domani sia aperto, nel senso che non è scritto. Cioè, noi siamo convinti che agitandoci oggi, facendo qualcosa oggi, possiamo in qualche modo condizionare, modificare il futuro, renderlo diverso, renderlo migliore. Quindi questa idea è quella che ci viene poi da secoli, perché da sempre l'uomo ha visto il fluido del tempo come una sequenza ordinata di momenti. Quindi, secondo il senso comune, abbiamo un passato che è fisso, un presente dinamico che continuamente cambia, tant'è che non riusciamo a coglierlo, perché nel momento che diciamo adesso è già passato, è un futuro aperto, con tutte le possibilità. C'è anche un'altra corrente di pensiero che dice che il futuro invece non è aperto, il futuro è già scritto, il fatto, il destino. Diciamo che se ciò non fosse vero non si spiegherebbe tutta quella legione di santoni, di chiromanti, di astrologi, di veggenti che prevedono il futuro. Cioè, se il futuro non c'è, che cosa prevedono? È chiaro che se lo prevedono vuol dire che qualcosa c'è da prevedere. Quindi, il fatto che il futuro non sia aperto, ma sia chiuso, come il passato, porta al problema del libero arbitrio. Allora, a cosa serve agitarsi, fare delle scelte oggi, votare un polo o l'altro? Tanto è già scritto quello che succederà, tanto non vale non andare a votare. Questo non dovevo dirlo, però. Io però qui mi fermo, perché sto entrando in un territorio che è quello della filosofia, della teologia, e quindi vorrei subito rientrare in un campo che mi è più congeniale, quello della fisica. Secondo la fisica, anche secondo la fisica, il tempo viene rappresentato con una sequenza di momenti. Questa è l'immagine classica che ci viene dalla fisica. Dico classica perché c'è anche un'altra immagine che è quella della relatività relativistica, ma che viene dalla relatività di Einstein. Le due cose sono abbastanza simili. Io per non far confusione mi riferisco solo alla fisica classica. Le cose valgono anche per la relatività ristretta generale di Einstein. Lo dico solo per i pignoli che mi vengono a dire ma sì, ma Einstein dice che... Quindi, secondo la concezione attuale della fisica, il tempo è praticamente un insieme ordinato di momenti. Al solito ci sono tutti i momenti passati, c'è un momento speciale che chiamiamolo adesso e c'è una serie di momenti futuri. Secondo la fisica e secondo la concezione newtoniana della fisica esistono delle leggi che stabiliscono esattamente note le condizioni iniziali di un sistema qual è la sua evoluzione nel tempo. Quindi noi in teoria conoscendo le condizioni iniziali di un sistema siamo in grado di sapere cosa gli succederà in futuro. È quello che in fisica si chiama il determinismo scientifico. Quindi il futuro di fatto è chiuso perché è già predeterminato dalle condizioni iniziali e dalle leggi fisiche come la meteorologia. Il fatto di non conoscerlo è perché abbiamo una scarsa conoscenza delle condizioni iniziali delle condizioni alf... Mistraletti mi sta ceccando lei. Ma è colpa mia. dunque mi ha distratto dove ero distratto. Dunque sì. Quindi abbiamo questa situazione no? Ecco in questa rappresentazione che quelle specie di eccole qua queste specie di quadrati vedete rappresentano ciascuna un'istantanea dell'intero universo. quelle rubette luminose che vedete dentro sono galassie questa immagine l'ho presa dalla famosa Hubble Deep Field è una cosa che per noi astrofili è religione. Praticamente io abbiamo ogni ogni istantanea è una fotografia dell'universo in un certo istante e chiaramente ne ho fatte alcune avrei dovuto farne infinite perché i momenti sono infiniti perché il tempo è continuo come si suol dire. Ora per mostrarvi come le istantanee sono diverse una dall'altra ho disegnato quella freccetta lì che vedete da un'istantanea all'altra ruota ad indicare che le posizioni relative delle galassie nell'universo cambiano da un istante all'altro quindi gli istanti sono diversi uno dall'altro. Ricordatevi che quindi ciascuna di quelle istantanee rappresenta l'intero universo ad esempio se voi guardaste questa con lo sguardo acuto potreste vedere laggiù che c'è una piccola galassia con circa 200 miliardi di stelle di quelle ce n'è una una stella gialla di media grandezza con otto pianetini che li ruotano intorno in quegli otto pianetini il terzo è un pianeta verdolino azzurrino aggussate lo sguardo vedete l'Italia vedete Piacenza vi potreste vedere vi dovreste vedere vi vedete come eravate alla cena di Natale perché è nel passato quindi potreste vedervi voi immobili proprio bloccati in quell'istante in quel preciso istante mentre affondavate la forchetta nel piatto di Tortellini se guardaste invece qui vedreste anche qui la stessa galassia con la Terra e vi vedreste come siete in questo ecco quando detto questo è già passato l'istante quindi ecco l'immagine che la fisica ha la fisica moderna classica chiamiamo così del tempo una delle cose più strane è che i massimi cervelli della fisica da Galileo a Newton hanno sempre considerato il tempo come un orpello da Newton ha detto solo che il tempo l'unica cosa che ha detto del tempo è che scorre uniformemente non si è chiesto cos'è dove va da dove viene come scorre uniformemente ha detto e lo spazio che è omogeneo e questa quindi l'idea una simpatica analogia che potreste fare del tempo e che forse qualcuno di voi ha già fatto no ce n'è un'altra diapositive niente questo qui quindi è un'immagine come quella di prima dell'universo blocco praticamente e questo qui è l'asse del tempo dal Big Bang 13,7 miliardi di anni fa fino ad oggi adesso vedete qui e poi il futuro quindi questa è un'immagine un po' folkloristica di come si immagina quello che si chiama l'universo blocco cioè l'universo quindi è un unico blocco fatto da tante fette di tempo le fette in realtà questa qui l'ho tirata fuori una sono tridimensionali perché l'universo è tridimensionale quindi passatemi la fetta bidimensionale immaginate di comprimere di schiacciare l'universo come una pizza quindi questa è l'immagine che noi abbiamo dell'universo blocco questa concezione del tempo però presenta un'anomalia ecco torniamo indietro un attimo ecco questa allora è l'immagine che abbiamo l'adesso i momenti l'adesso il passato e il futuro cos'è che manca secondo voi in questa immagine cos'è che non ci rende giustizia sulla quella che è la nostra sensazione del tempo è il fatto che vista così l'adesso è immobile è fisso su un momento cioè questa immagine rappresenta un eterno presente come se noi fossimo tutti delle statue bloccati in un preciso in un unico momento per cercare di 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 rendere l'idea che l'adesso si sposta da un momento all'altro ho dovuto inserire nell'immagine quelle tre freccette che non è che dicano molto però ci fanno capire che l'adesso è dinamico che l'adesso cammina che si sta spostando quindi ho fatto per così dire ho barato ho detto cerchiamo perché se no non riuscivamo a capire come l'adesso potesse muovere vediamo un'analogia che tutto sommato qualcuno di voi ha già pensato molti di voi pensano si può pensare al tempo come ad un proiettore le due bobine adesso non ci sono più questi proiettori adesso è tutto digitale perché una volta c'erano le pellicole quindi noi possiamo pensare che ci sia la bobina con il futuro con le istantanee che devono venire una bobina del passato delle istantanee che sono già avvenute e una un fotogramma un'istantanea che è quella del presente visto così è quello che dicevo prima noi vediamo il proiettore che proietta un'immagine fissa perché a questo punto cos'è che manca io ho bisogno ho dovuto mettere vedete sull'adesso ho dovuto mettere le tre freccette per far muovere l'immagine per creare la dinamicità dell'adesso questo è ripeto sto sempre parlando del nostro modo naif naturale di concepire il tempo adesso mi ricordo cosa c'è dopo ecco se io invece volessi invece che usare quelle due freccette volessi rappresentare in maniera precisa il fatto che l'adesso si sposta da un momento all'altro che cosa dovrei fare allora ecco adesso ho isolato due istantanee dell'universo l'adesso vedete sta puntando sulla prima come faccio a far transitare l'adesso sulla seconda c'ho una spirina ne qua se bisogna vedo che già come faccio a spostare l'adesso sulla seconda l'unico modo che ho è immaginare che ci sia un'istantanea che contiene tutte le altre istantanee e l'adesso e ne faccio un'altra in cui l'adesso si è spostato e questo è un punto un po' delicato spero che riusciate a capire sto cercando di dirvi come posso immaginare di far camminare l'adesso perché pensateci bene l'adesso quella freccia che indica l'adesso sta fuori dall'universo non sta dentro l'universo quando io guardo l'universo e dico adesso lo vedo dal di fuori è chiaro questo questo semplice passaggio ecco quindi che cosa mi succede allora vedete io ho tante non so come chiamarle super istantanee ciascuna super istantanea contiene tutte le istantanee dell'universo con l'adesso in un momento poi la successiva super istantanea contiene tutte le istantanee dell'universo con l'adesso spostato al momento successivo è dura pensare al tempo non pensavate di trovarvi una grana così stasera vedete che l'adesso si sposta si sposta da un istantanee all'altra e questo movimento di super istantanee è quello che mi fa spostare l'adesso ma la domanda è ma allora rispetto a cosa si spostano le super istantanee no perché io le ho disegnate esiste un tempo esterno ho bisogno di un altro tempo torniamo un attimo indietro all'analogia del proiettore abbiamo visto che il proiettore praticamente ricordatevi che il gatto felix che passeggia nervosamente è l'universo intero nella nostra rappresentazione no ora cos'è che manca in questa immagine manca il fatto che dobbiamo far girare il proiettore dobbiamo farlo far muovere il proiettore ma cosa ci serve per far muovere il proiettore e ci serve un altro proiettore che proietta il proiettore e poi mi serve un altro proiettore cioè ho questo ricorso all'infinito ecco come la nostra idea del tempo fa acqua da tutte le parti se noi immaginiamo un tempo esterno che regola l'adesso e lo fa passare da un istante all'altro mi serve un tempo per far muovere l'adesso e poi mi serve un tempo poco da ridere ecco noi abbiamo bisogno di queste due posizioni un presente dinamico in movimento e una sequenza di momenti invariabili perché questo è il nostro modo di pensare la vita il nostro modo di coniugare i tempi il nostro modo di vivere di vedere il futuro di orientarci cioè il nostro modo di la nostra sensazione del tempo è una sensazione vitale perché è quella che ci consente di di sopravvivere di confrontarci con l'ambiente di imparare di prevedere diciamo così i momenti futuri l'anomalia può scomparire se invece che pensare come ci è naturale all'adesso che si sposta da un istantaneo all'altra pensiamo che ogni istantaneo abbia il suo adesso ora voi dite ma come come fanno ogni istantaneo ad avere il suo adesso facciamo un tentativo proviamo tutti a socchiudere gli occhi e pensare adesso questa è filosofia non è fisica però pensiamo adesso poi facciamo passare alcuni secondi e poi ci ricordiamo che due tre secondi fa c'era un momento che aveva il suo adesso perché stavamo pensando adesso in quel momento allora la cosa più intelligente da fare che cos'è è portare l'adesso dentro nell'universo che cos'è l'adesso se l'adesso è la nostra sensazione di qualcosa che accade adesso è un problema qui del nostro cervello dei nostri neuroni perché non portarlo dentro all'universo ma allora a questo punto tanto vale tirare via la linea del tempo non mi serve più la linea del tempo perché l'adesso ce li ho dentro nell'universo no? ma nel momento in cui tiro via la linea del tempo cioè quella linea che ordinava gli adesso in un certo ordine preciso è come quando tiro via il filo dei panni stesi tutti i panni mi cascano per terra perché non c'è più una struttura che li regge in maniera sequenziale quindi che cosa mi rimane? è una collezione di momenti sparsi ciascuno con il proprio adesso quindi secondo la fisica cioè se noi rimuoviamo quella apparente contraddizione quel del del proiettore che proietta il proiettore che proietta il proiettore e rimuoviamo l'adesso che si sposta portiamo l'adesso all'interno dell'universo vedete quello che mi rimane che cos'è? è un insieme di fotogrammi sparsi un insieme di momenti quindi con la nostra analogia facendo così cosa abbiamo fatto? abbiamo eliminato il proiettore perché adesso non ci serve più perché non abbiamo più bisogno di proiettare i fotogrammi abbiamo preso la pellicola e l'abbiamo tagliata in tanti fotogrammi quello che ci rimane è un mucchio di fotogrammi sparsi questa dovrebbe essere una una sensazione un'idea del tempo però voi direte siamo finiti di male in peggio perché se prima almeno ci avevamo adesso ci sono rimasti un mucchio di momenti sparsi un'intera vita fatta di momenti sparsi questo è paradossale perché uno allora potrebbe dire ma come mi vuoi dire che io vivo la mia vita cioè mi alzo la mattina e vado all'asilo poi verso le 10 mi trovo all'università poi alle 2 del pomeriggio mi trovo all'Inps a fare la coda per la pensione poi torno bambino ma non possiamo pensare che i momenti della vita siano sparsi così c'è un ordine c'è o perlomeno abbiamo tutti fortemente la sequenza la sensazione che c'è una sequenza e allora la domanda che facciamo adesso è cos'è che nella realtà ordina tra loro i diversi momenti cioè i diversi fotogrammi della pellicola cos'è che ci dà la sensazione che il tempo scorre uniformemente e senza salti interruzioni in maniera ordinata perché andiamo dalla sera alla maggior non è che saltiamo uno guarda l'orologio e dice adesso sono le 8 ecco sono 7 e mezza 12 e un quarto no c'è una sequenza ordinata di momenti cos'è che fa sì che i momenti che abbiamo visto abbiamo dovuto sparigliare abbiamo dovuto mescolare come un mazzo di carte cos'è che rimette in ordine non è l'entropia non ci siamo questo è certo onesto sono le leggi della fisica sono le leggi della fisica che legano un momento al momento che gli sta necessariamente attaccato tra le varie leggi della fisica ce n'è una che i fisici usano per costruirsi questa sequenza di momenti ed è il principio di minimazione io però non entro in questo leo di dettaglio comunque è un principio che è fondamentale che ha usato sia nella fisica che nella relatività che meccanica quantistica ed è quello che consente di costruire le leggi fisiche in sostanza questo dice che la natura segue sempre il percorso più breve per andare quindi se io devo andare dalla mattina alla sera io passo per mezzogiorno faccio le dieci le undici le dodici non faccio le dodici le dieci le undici le nove seguo sempre il percorso più breve quindi sono le leggi della fisica che mi ordinano i momenti sparsi quindi l'idea di avere tutti questi momenti mescolati insieme e che qualcosa li aggancia li incolla uno all'altro è quantomeno affascinante ecco voi sapete che io ho una predilezione per le frittate ecco questa è sono una serie di istantanee di un uovo che cade e diventa una frittata questi sono sparsi sono momenti sparsi cos'è che li lega nella sequenza che tutti quanti conosciamo ben mio le leggi della fisica il principio di minimazione il principio di conservazione dell'energia ecco quindi una sequenza di momenti ordinati dalle leggi della fisica è quella che costituisce una storia una storia quindi è un qualcosa che prende i momenti e li organizza è come se ci fosse un mazzo di carte che è la storia della vostra vita mi immagino tutte le vostre fotografie di quando eravate bambini fino ad oggi mescolate però la fisica ve le ha messe in un modo tale che ha fatto nascere una storia cioè una sequenza ordinata di eventi che voi riconoscete e che noi sappiamo non riconoscere ecco adesso qui finisce la prima parte quindi io in teoria dovrei aver smontato abbastanza quello che è la vostra sensazione del tempo no? l'ho l'ho un po' incrinata cioè cosa ho fatto? vi ho tolto quell'idea del presente che scorrazza tra i momenti e l'universo e vi ho costruito un insieme di momenti sparsi che in qualche modo le leggi della fisica vi fanno sentire in maniera sequenziale adesso mi tocca spiegarvi nell'intermezzo quelle due idee di meccanica quantistica il principio di sovrapposizione degli stati quando leggete i testi di meccanica quantistica l'aggettivo più comune che viene usato per definire la meccanica quantistica è word in inglese assurda la meccanica quantistica è una scienza assurda è stata concepita tra il 1920 e il 1930 da un gruppo di fisici il cui nome è passato la storia da Heisenberg Schrödinger Pauli Dirac e altri che mi perdoneranno se non cito tutti i premi Nobel e ha completamente sconvolto il modo normale di pensare la fisica la meccanica quantistica si applica alle particelle elementari agli atomi fino alle molecole quindi è quella che descrive il mondo dell'infinitamente piccolo diversamente dalla relatività di Einstein che invece descrive la cosmologia il principio di sovrapposizione degli stati è uno dei principi se non il principio fondamentale qualcuno di voi può aver sentito parlare del principio di indeterminazione di Heisenberg che magari a volte si sente nominare è uno degli altri principi collegato a questo ma quello di sovrapposizione degli stati è sicuramente il più assurdo è quello che adesso io vi dico della meccanica quantistica voi potete dire ma che vi sto raccontando delle palle ma non è vero la meccanica quantistica è stata applicata la bomba atomica è nata perché c'è la meccanica quantistica ho letto da qualche parte che oltre il 50% del prodotto interno lordo degli stati uniti d'america è collegato direttamente o indirettamente alla meccanica quantistica il problema è uno solo la meccanica quantistica funziona perfettamente si applica consente di fare i calcoli di costruire diavolerie incredibili l'unica cosa è che non sappiamo perché funziona non sappiamo perché è così il principio di sovrapposizione degli stati vedete se riuscite a capirlo niente giochiamo a testa e croce il ragazzino lancia la famosa moneta questa cade si presenta o testa o croce adesso c'è il solito che mi dice eh può anche cadere dritta allora facciamo così prendiamo una moneta limiamo bene i bordi in modo che se cade cade solo o testa o croce adesso immaginiamo che Pierino lancia la moneta e la moneta gli cade e gli va a finire sotto la poltrona chiaramente non sappiamo se è venuto testa o se è venuta croce secondo la meccanica classica però siamo sicuri che sotto la poltrona la moneta è o testa o croce cioè nessuno gli viene davvero a meno che non ci sia un buco che sia scomparsa quindi per saperlo che cosa bisogna fare si sposta la poltrona ricordatevi non la si va a prendere perché si potrebbe barare si sposta la poltrona e si va a vedere se è testa o croce secondo la meccanica quantistica quando la moneta cade sotto la poltrona e nessuno la vede non è testa o croce ma è in uno stato misto è per metà testa e per metà croce adesso voi mi direte ah queste cavolate no io vi giuro che è così cioè quando l'osservatore o il misuratore perché per i fisici osservare testa e croce significa misurare lo stato di un sistema a due stati voi insolutamente dovete dire è testa o è croce no? Nella meccanica classica quando nessuno guarda lo stato è o testa o croce in meccanica quantistica quando nessuno guarda vedete che l'osservatore è ben dato lo stato è testa e croce è un stato misto una sovrapposizione di stati ovviamente questo funziona solo per le particelle elementari nessuno può pensare l'esempio che vi ho fatto è per farvi capire come lavora la meccanica quantistica a livello di particelle elementari ve l'ho portato a livello macroscopico quello che in realtà succede succede con lo spin degli elettroni però se vado a raccontarvi dello spin degli elettroni poi rischiamo la vita tutti quanti lo spin degli elettroni ha questa caratteristica forse alcuni di voi conosceranno il principio di sovrapposizione degli stati perché è stato raccontato da Irwin Schrodinger con il famoso paradosso del gatto di Schrodinger che colpisce molto di più la fantasia della gente il paradosso del gatto di Schrodinger è la stessa cosa del testo croce solo che è un po' più pittoresco Schrodinger ha preso un gatto con tutte le proteste che potevano derivare lo ha chiuso dentro ad una scatola ad una cassetta gli ha messo di fianco un po' di materiale radioattivo il materiale radioattivo quando emette un raggio gamma per effetto di un decadimento qui non stiamo a entrare nel dettaglio il raggio gamma viene rilevato o un raggio beta viene rilevato dal contatore il contatore agisce taglia la forbice che taglia il filo il martello cade sul sul veleno e il gatto muore questa è la sequenza allora se la scatola è chiusa la scatola in cui c'è dentro il gatto con tutti gli orpelli secondo la meccanica quantistica il gatto si trova in una situazione di sovrapposizione di stati si trova ad essere contemporaneamente morto e vivo metà morto e metà vivo se nessuno guarda all'interno solo quando qualcuno si decide ad aprire la scatola e guardare allora miracolosamente il gatto diventa o vivo o morto ma solo quando si apre finché nessuno apre il gatto è in sovrapposizione di stati è un paradosso ovviamente ripeto non vale perché uno mi dice sempre sì però se io non guardo e aspetto dopo un po' sento la puzza se è morto sentire la puzza è come apparire la scatola e fare l'osservazione quindi di fatto tu hai compiuto l'osservazione il principio vale comunque ecco a questo punto interviene un giovane fisico americano si chiama Hugh Everett siamo intorno agli anni 50 Hugh Everett dice non posso pensare che ci sia questo stato misto non posso pensare che il gatto sia per metà vivo e per metà morto allora inventa una soluzione che forse sembra ancora più paradossale ma oggi è considerata possibile da oltre il 70% dei fisici c'è un 30% ancora di quelli che resistono che è la cosiddetta interpretazione dei molti mondi many words interpretation si usa l'espressione interpretazione in fisica perché non è una teoria è un'interpretazione di una teoria cosa dice Hugh Everett sostanzialmente che quando io infilo il gatto dentro nella scatola e la chiudo l'universo udite udite l'intero universo si divide in due in un universo il gatto resta vivo nell'altro muore quindi a questo punto salviamo il discorso del gatto che è metà vivo abbiamo però due universi l'osservatore l'osservatore anche lui viene per così dire diviso la coscienza dell'osservatore però è attiva solo in uno dei due universi quindi l'osservatore quando andrà ad aprire la cassa se si troverà nell'universo A vedrà il gatto vivo e miagolante se invece si troverà nell'universo B vedrà il gatto morto steso la stessa cosa vale per la moneta quando lanci la moneta e la moneta finisce sotto sotto la poltrona l'universo si divide in un universo la moneta è testa nell'altro universo è croce bisogna vedere in quale universo avete la fortuna o la sfortuna di indirizzarvi quindi esistono ad ogni scelta ad ogni problema di decisione l'universo si divide quindi abbiamo infiniti miliardi di miliardi di miliardi di universi paralleli in cui si verificano tutte le possibili alternative di una certa scelta ad esempio c'è un universo dove c'è la signora Milena la moglie del nostro presidente che ha sposato George Clooney c'è un altro universo in cui invece il nostro presidente ha sposato George Clooney questo qua non si sa adesso non so quale di due sia più felice quindi tutte le possibili alternative che noi possiamo immaginare si verificano in questo in questo multiverso ecco il multiverso cioè un universo di universi l'omnium come certi lo chiamano ecco questo è un disegnino simpatico fatto da un fisico inglese in cui si vede due giovani che si trovano sulla terra e il ragazzo prende l'iniziativa e chiede la ragazza se le piacerebbe prendere bere qualcosa insieme a questo punto l'universo si splitta perché la ragazza sta scegliendo pare che la scelta di una donna sia un fenomeno quantistico cioè completamente casuale no non lo dovevo dire questo e allora si divide in un universo l'universo A la ragazza dice ma certo volentieri e qui nasce una nidiata di bambini dell'universo B invece i due dicono la ragazza dice no ho mal di testa e i due si separano indefinitamente quindi tutte le possibili storie si verificano secondo l'idea di Hugh Everett adesso mi ricordo che diapositiva c'è dopo però pubblicità se se volete saperne un po' di più di meccanica quantistica ci sono tanti bellissimi libri e io potrei se me lo chiedete vi posso dare una bibliografia ricchissima ce n'è uno molto semplice scritto da un famosissimo fisico vivente che si intitola Omnium in molti sentieri della realtà che è che si racconta la meccanica quantistica nell'ambito di un romanzo c'è un vecchio professore squadrinato che vive da barbone che racconta la meccanica quantistica a degli studenti altrettanto squadrinati dei barboni e questi amano la meccanica quantistica e vivono e riescono quindi è un romanzetto che si legge si legge in un pomeriggio insomma e però riporta il principio di dissoluzione degli stati il principio di internazione di Eisenberg tutti gli orpelli l'entanglement quantistico che è uno dei più grandi misteri della storia qui dopo nell'ingresso se volete peraltro questo libro qui adesso io non per voler dire ha venduto più di un milione di copie non in questo universo però un universo parallelo dove io peraltro sono ricchissimo famosissimo e presto scenderò in campo chiuso chiuso basta non vado oltre dunque ecco ce ne sono alcune alcune copie qui se le volete prendere vengono vendute al prezzo di 8 euro prezzo di costo senza sfine di lucro perché per il numero di copie che ho venduto non arrivo a pagarmi una pizza quindi per gli studenti pensionati al minimo casse integrati se mi mandate un'email a quell'indirizzo lì ve lo mando gratis via pdf quindi è un libro che ho scritto chi l'ha letto ed è sopravvissuto ha detto che è di simpatica lettura adesso chiuso il break pubblicitario adesso torniamo un attimo indietro attenzione che adesso siamo nella seconda parte quindi adesso vi inoculo l'idea del tempo alternativo e questo è il punto fondamentale ho sempre l'aspirina il dottor Perboni se vuoi vedo che ormai ecco questo è il punto di passaggio fondamentale cos'è che cos'è che differenzia state ben attenti quelli che sono altri momenti allora immaginiamo che la ragazza dice si 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 vengo a bere andiamo insieme e poi ne nasce una storia immaginiamo che siamo in questo universo ci siamo infilati in questo universo e abbiamo messo su famiglia la domanda è cos'è che ci fa dire che questi sono altri momenti del nostro universo e questi qui invece sono altri universi universi paralleli che cosa differenzia un momento futuro da un momento in un universo parallelo e qui c'è l'inghippo capisce sono la stessa cosa e sono la nostra prospettiva che ce li fa vedere diversi è la nostra prospettiva che ci fa vedere un momento nel futuro invece di vedere un momento in un universo parallelo come vorrebbe la meccanica quantistica questo è David Deutsch è un fisico inglese fondatore della computazione quantistica una bella testa io ho preso un po' di idee da lui perché credo di quello che vi ho raccontato mica me lo sono sognato stanotte e Deutsch dice questa frase le istantanee cioè le istantanee momenti della nostra vita che noi chiamiamo altri tempi del nostro universo quindi il passato e il futuro gli istantanee di quando eravamo bambini si distinguono da altri universi gli universi paralleli della meccanica quantistica soltanto nella nostra prospettiva e in quanto sono connessi alle nostre istantanee in modo stretto dalle leggi della fisica questa è una frase un po' difficile io ve la per quelli di voi che magari vogliono approfondire di più il problema quindi comunque il concetto è questo adesso poi vediamo di dichiarirlo in maniera tornando alle nostre analogie con i filmetti e con le pellicole quindi capite faccio la immagine dopo quindi di fatto in questa rappresentazione molto schematica vedete che ciascuno di questi fogli è di fatto un'istantanea noi siamo qui noi ci troviamo in quell'istantanea verdolina un po' scura queste istantanee qui che stanno vicino a noi sono altri momenti perché sono istantanee in cui le leggi della fisica ci porteranno quindi sono i momenti futuri quelli che che vivrete tra questa sera quando tornerete a casa queste invece sono istantanee di altri universi paralleli che si sono sdoppiati proprio mentre io parlavo perché ci sono adesso non voglio stare via le infinite storie che continuamente proliferano da questa immagine e che si diffondono nel multiverso queste altre immagini invece sono altri universi quindi allora in sostanza che cos'è? non abbiamo più una sola pellicola capite il problema? cioè non è che non c'è un solo film abbiamo infinite pellicole ma la cosa drammatica è che di queste infinite pellicole le abbiamo tutte tagliate a fotogrammi abbiamo mescolato tutti i fotogrammi quindi la realtà non è più un universo blocco ma è un megaverso un multiverso blocco io lo so che si fa un po' fatica ma i fisici la pensano così i fisici avete già capito non sono persone tutto normali no? c'è uno che va a casa e dice che multiverso mi trovo stasera cosa c'è in questo universo da mangiare stasera? la solita frittata con le cipolle allora cambia universo è chiaro che noi viviamo la sensazione proprio forte di avere una storia ma di fatto la storia ce l'abbiamo perché in questo mucchio di fotogrammi le leggi della fisica ci fanno infilare proprio la storia la nostra storia qui ho riportato fotogrammi di tutti i film avrei dovuto prenderne di più comunque per farvi capire che ci sono infiniti fotogrammi sparsi di infinite pellicole questo è il multiverso quantistico alcuni di quei fotogrammi sono momenti diversi altri invece sono universi diversi questa qui ad esempio è una storia è una sequenza di coerente di momenti adesso li posso chiamare universi perché ormai ho capito che i momenti sono altri universi ricordatevi sempre l'immagine iniziale dove era l'intero universo che stava dentro nel fotogramma quindi questa qui è una storia è una sequenza coerente che sono connessi tra loro dalle leggi della fisica questa sequenza in cui claire gabble bacia rossella oara nel famoso film via col vento primo tempo questa è una storia chiaramente impossibile perché va contro le leggi della fisica perché il passaggio dall'immagine di charlton neston che bacia la dottoressa chiera non mi ricordo come si chiamava insomma la scimpanzè all'immagine successiva in cui i due di via col vento si baciano è chiaramente contrasta con le leggi della fisica non va nella direzione del principio di minimazione è qualcosa di impossibile questa sequenza qui invece non è impossibile ma sarà molto improbabile perché c'è Charlton neston che bacia rossella oara quindi da un punto di vista delle leggi della fisica è coerente però dobbiamo immaginare che sia successo qualcosa di molto strano in passato cioè che magari rossella oara dopo essersi beccata il famoso francamente meno in fischio sia stata rapita da un'astronauta di extraterrestri e portata sul pianeta delle scimmie una storia estremamente improbabile io ovviamente sto esasperando quella che non potevo farvi le equazioni di minimazione ma cerco di farvi capire come noi siamo di fronte ad un universo di storie parallele mi ricordo cosa c'è dopo ecco qui ho voluto immaginare in maniera come dire pittorica quello che quindi è la nostra nuova sensazione del tempo ciascuno di questi segmenti azzurri rappresentano un istante della nostra storia o di altre storie noi passiamo le leggi della fisica ci spingono da un universo all'altro seguendo il cammino più breve e quindi noi ci muoviamo lungo questo viale quel viale lì è la nostra storia che infila gli istanti tra loro sconnessi in un certo modo ma nulla vieta che che si possa saltare dall'universo ad un altro universo ora noi non conosciamo la tecnologia per fare questo tipo di viaggi non sappiamo se infilandoci in un buco nero sia possibile trovarsi in un universo parallelo o se ci siano altri sistemi che consentano in questo caso io passerei in un istante vicino di un universo parallelo oppure potrei passare rispetto a questa in una situazione del futuro di un universo parallelo ecco e qui si innesca ho quasi finito qui si innesca il discorso dei viaggi nel tempo faccio una piccola chiosa con i viaggi nel tempo così magari uno i viaggi nel tempo nella concezione tradizionale del tempo quello quello iniziale praticamente quello di tutte le immagini e dell'adesso con la freccia che scorre quindi di una sola pellicola un solo universo e la freccia del tempo che lo scorre i viaggi nel tempo verso il passato erano sono ritenuti dai fisici tutti quanti impossibili perché danno luogo ai famosi paradossi non so se ne avete sentito parlare uno dei più celebri è il paradosso del nonno cioè io entro nella macchina del tempo torno nel passato incontro mio nonno prima che si fidanzi con mia nonna e lo uccido in quel momento si crea un paradosso nel senso che se ho ucciso mio nonno prima che concepisse mia madre io non posso esistere quindi non posso averlo ucciso e questo quindi è impossibile l'altro ancora più 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 drammatico è il paradosso della nonna io torno nel passato incontro mia nonna prima naturalmente che conosca mio nonno me ne innamoro ci conosciamo in senso biblico e nasce mia madre così io divento padre di mia madre padre di mia madre capite che c'è sempre l'aspirina e mia madre diventa mia figlia poi è terribile beh questo comunque più simpatico è il paradosso di Shakespeare no? al solito prendo macchina del tempo mi infilo dentro mi porto dietro l'Amleto vado nell'Inghilterra del 1600 Shakespeare ha scritto l'Amleto mi sembra nel 1602 arrivo sei mesi prima vado a trovare il signor William e gli dico senti un po' e gli leggo il pezzo dell'essere non essere to be or not Amleto Shakespeare rimane subito colpito dice bellissimo lo scriverò nella prossima tragedia la domanda è chi ha scritto l'essere o l'essere se Shakespeare l'ha imparato da se stesso perché gli è stato ecco questi paradossi vengono rimossi completamente nella nuova visione del tempo perché quando io vado nel passato non vado nel mio passato vado nel passato di un altro universo adesso io pensavo di finire prima voglio lasciare qualche minuto per le domande perché penso che ne avrete un milione di domande poi ho fatto niente mi fermo qui provate a pensarci insomma perché lo spunto di questa conferenza è quella di farvi di farvi venire qualche problema in più se non ce ne fossero abbastanza comunque quindi adesso io vorrei rientrare e chiudere rientrare seriamente e seriamente si fa per dire non me l'ho dimenticato questa allora diciamo che il modo noi possiamo ammettere i viaggi nel tempo verso il passato però pagando questo prezzo quindi il primo prezzo è che la storia deve essere coerente qui la cinematografia fantascientifica ci ha sguazzato la storia deve essere coerente storia coerente vuol dire che io posso andare nel passato però non posso fare niente che modifichi il futuro da cui provengo e nel famoso film l'esercito dei 12 scimmie con Bruce Willis c'è questa situazione cioè lui va nel passato cercare di evitare un'epidemia che ha portato il genere umano all'estinzione ma non ci riesce proprio perché è come se voi andate nel passato per ammazzare vostro nonno nel momento che gli puntate la pistola o la pistola fa clic o il vostro nonno vi dà uno sganassone della madonna e vi stende cioè non riuscite a cambiarlo per il semplice motivo che invece nel ritorno al futuro è il caso dei universi paralleli infatti quando Michael J. Fox va nel passato modifica il passato e torna poi nel futuro lo trova diverso perché? perché è tornato in un altro universo è scarrucolato in un universo parallelo no? niente questo era una chiosa giusto per perché non si poteva finire un ciclo di conferenze sul tempo senza parlare di viaggi nel tempo adesso torno sul serio vi leggo quello che ha scritto Einstein pochi anni prima di morire occorre accettare l'idea per quanto bizzarra possa apparire che il tempo soggettivo con la sua insistenza sull'adesso non ha significato oggettivo il tempo non esiste e poi ancora per noi fisici convinti la distinzione tra passato presente e futuro non è che una illusione per quanto tenace possa essere grazie grazie